E' appena terminato il vertice con l'osservatorio provinciale, il Comitato per l'Ordine della Sicurezza, Assessore Ecciani, cos'è emerso? Intanto abbiamo chiesto informazioni sul brutto fatto verificatosi in Via Vittorio Veneto la scorsa settimana, un fatto inaccettabile. L'arma dei carabinieri che è intervenuta sul posto e poi in seguito è intervenuta anche la Polizia di Stato, ma è l'arma che si sta occupando delle indagini, in particolare dell'identificazione delle persone che hanno dato luogo a quella rissa. Abbiamo chiesto che si proceda velocemente nell'identificazione dei responsabili e che vengano puniti. Ci auguriamo che possa arrivare una punizione esemplare per queste persone che si sono comportate in modo incivile e hanno fatto passare alcuni minuti veramente brutti alle persone che passavano in Via Vittorio Veneto, agli esercenti e ai commercianti. C'è un problema di suddivisione del territorio, di copertura tra per esempio le forze dell'ordine, polizia e carabinieri e la polizia locale? Avete chiesto ulteriori incrementi dei pattugliamenti? Problemi di suddivisione e di organizzazione no, perché le forze dell'ordine sono molto ben organizzate. Certamente c'è un grande problema che dipende dalla pandemia e dall'immigrazione, perché questi due fenomeni insieme hanno distolto e continuano a distogliere. Moltissimi agenti delle forze dell'ordine e della polizia locale dai loro compiti di controllo del territorio e questo ovviamente è un grande problema. Siamo però assolutamente consapevoli che ci siano uomini e professionalità importanti. Ovviamente abbiamo chiesto però uno sforzo ulteriore alle forze dell'ordine. Abbiamo chiesto anche che vengano fatti, come già accade normalmente, ma che vengano ampliati dei servizi congiunti. Noi siamo assolutamente disponibili a mettere a disposizione la polizia locale e i nostri uomini delle altre forze dell'ordine per effettuare servizi congiunti.